Il futuro dell'ex Eliseo di Avellino resta nebuloso, bocciata in Consiglio Comunale la mozione dell'opposizione che chiedeva parole di chiarezza alla giunta festa. Da anni si dice tutto e il contrario di tutto, accusa Francesco Iandolo. Dalla Fondazione Unica per la Cultura si è passati all'ex GIL come sede della caserma dei Carabinieri Forestali. La verità è che la struttura è inutilizzata dopo il restauro di ormai tre anni fa e in preda al vandalismo. Quello che interessa alla città, a una generazione di giovani che ha lottato per quella struttura è vederla aperta, funzionale e capire che l'unico modo per evitare il vandalismo è quello di aprire le porte e di farla finalmente vivere e di sfruttare questo tempo della pandemia in cui tutte le strutture culturali sono chiuse per prepararne l'apertura quanto prima. All'epoca di Nunno Antonio Gengaro aveva profuso tante energie per rilanciare la casa del cinema. Oggi, dichiara Malinconico, piange il cuore vedere una struttura che rischia di essere svenduta ai privati. Agli atti del Consiglio Comunale esiste una delibera fatta approvata da me dove per filo e per segno c'è scritto cosa bisogna fare all'interno dell'Eliseo. Basterebbe dare vita a quella delibera e si troverebbe una soluzione gestionale per l'Eliseo. Io non vorrei che l'Eliseo faccia la fine di tanti beni della città, per esempio l'asilo e il padre del lavoro, che sono stati svenduti a privati perché l'amministrazione ha perso il filo conduttore della vocazione di queste opere.